Esce per un'invento da restituzione. Io una cosa voglio dire da Berlusconi, perché quando si cominciò a parlare del fatto che c'erano dei giudici che a Palermo, a Catanissetta, a Firenze, a Roma stavano indorando sulle stragi, disse che c'erano delle procure che stavano confrontando contro di lui. Ancora non si parlava di nessun avviso di garanzia, nessuno aveva fatto il nome di Berlusconi, eppure Berlusconi disse che le procure comportano contro di me. Questa non è altro che un'ammissione di colpa, è un'ammissione di colpa. Quelle cose che lui vuole nascondere, che ha tentato fino a avanti, che è vissuto fino a avanti a rascondere, oggi finalmente stanno venendo fuori. Oggi ci sono dei collaboratori di giustizia che ci stanno dicendo la verità su quest'uomo, ci stanno dicendo la verità su come quest'uomo è arrivato al potere, ci stanno dicendo la verità su come è nato il suo partito, e questa è la verità, ed è per questo che noi, io non sono venuto qui a parlare di escort, di processo Mildi, di queste cose. Queste cose per me sono nulla, sono nulla, di queste cose lui dovrà rendere conto solamente ai giudici. Io sono venuto qui perché la mafia deve essere cacciata fuori dallo Stato. Per me sono venuto qui perché la mafia deve essere cacciata fuori dallo Stato, per me sono venuto qui oggi a difendere i diritti di Berlusconi.